La creazione di un'ATS unica che nel progetto di legge abbiamo chiamato ATS Lombardia consente di unificare le attività di programmazione amministrativa, finanziaria ed informatica delle 8 ATS in un unico ente. Il volume d'affare complessivo di questo soggetto è pari a circa 15 miliardi di euro in quanto vengono trasferite tutte le risorse che Regione Lombardia riceve nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale. A ciò si aggiungono la remunerazione delle prestazioni non finanziate da tariffa e le risorse proprie che Regione decide di destinare al finanziamento della spesa sanitaria oltre al rimborso proveniente per le prestazioni effettuate verso cittadini di altre Regioni o altri Stati esteri. Nell'ambito dei costi trovano collocazioni in rimborsi verso gli ospedali pubblici e privati per le prestazioni ospedaliere che vengono rese in regime di convenzione oltre al rimborso di quelle specialità diagnostiche che vengono effettuate dagli ambulatori pubblici e privati contrattualizzati. Il finanziamento della medicina preventiva viene erogato verso le ASST che provvederanno alla corresponsione secondo la relativa programmazione. Il rimborso della spesa farmaceutica avviene per tutte quelle medicine che vengono utilizzate sia nell'ambito ospedaliero che nell'ambito di prestazioni domiciliari a seguito di regolare prescrizione medica. Il costo del personale è relativo alle attività che possiamo definire di supporto e quindi al netto dei NOC, i nuclei operativi di controllo, trasferiti all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ed al personale sanitario trasferito alle ASST. Infine si finanziano le prestazioni dell'RSA e dell'assistenza domiciliare, oltre all'onere contrattuale dei medici di base e pediatri di libera scelta che dipendono poi funzionalmente dalle ASST.